Uefa, messaggio alla nuova Basta con la Superlega. 80 milioni di euro, a tanto potrebbe ammontare il mancato introito della Juve in caso di mancata partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione. Il rischio è stato calcolato sulla base dei ricavi registrati nelle ultime tre stagioni continentali del club bianconero, 19-20. 86. 6 milioni di euro. 20-21. 88, 4 milioni di euro. 21-22. 78, 71 milioni di euro. Nella stagione in corso, nonostante l'eliminazione dalla Champions League, la Juve ha già incassato 52. 9 milioni di euro. A carico della società, il primo dicembre scorso l'Uefa ha aperto la procedura per una presunta violazione del fair play finanziario. Sulla scorta dell'inchiesta Prisma avviata dalla magistratura torinese e dei rilievi mossi dalla Consob al bilancio. Il progetto caro ad Agnelli in attesa del verdetto del collegio di garanzia sui 15 punti di penalizzazione. Per allacciare i rapporti con la nuova dirigenza, Ceferin si aspetta la rinuncia al progetto caro ad Andrea Agnelli. Alla base della clamorosa rottura con l'Uefa, consumatasi nell'aprile 2021 è resa insanabile dal ricorso che Juve.